Ciao a tutti e grazie per il mio canale e benvenuti su Angershark Evolution Oggi c'è lo sconto su Sharjira e io perché non potevo prendermela Allora, cominciamo a equipaggiarci delle cose, tra cui il jetpack Ok, il jetpack, poi dico, oggi facciarli, io non voglio un botto Però vabbè, comunque ci equipaggiamo i 10 baby squali che abbiamo, cioè il baby lava E il baby elettro e facciamo una partidina, ragazzi Io lo so già come, quindi non sarà una sorpresa tanto per me, ma più che per voi Oggi lo andremo a provare veramente e io so che è fortissimo perché io ce l'avevo sul mio scorso account Allora, è velocissimo e questa cosa non si discute, ma tutto e basta Cioè è velocissimo, una cosa assoluta, va bene, io adesso ho il jetpack Dunque, mamma mia è vero Camina, me l'avevo dimenticato E mamma mia è l'unico che ha poi i palazzi e io tipo è da tantissimo che non li vedo Ok, mamma mia, sì sì Lui è il primo che cammina meglio sulla terra e il secondo, nominate chi è, è Abishark Perché con quelle mani si trascina sulla terra, quindi lui è il secondo Allora, vediamo come sono questi palazzi, ok, sì, già Me li ricordavo più rotondi, più che altro Oddio, allora, è caricato L'anno al giorno sono veramente Tipo gigantesco Ho già fatto una missione? Uccidere i 100 nemici con il suo piatto? Non è che va Tanto difficile, cioè, parliamone E comunque i 300 nemici, cioè, si trovano così Oh, Moby Dick Moby Dick è sempre tipo gigantesca, però non è che è forte, cioè È più gigante che forte, direi E perché, vabbè, io non ce l'ho mai avuto a Moby Dick Perché nel mio primo account erano fino a Moby Dick gli squali E io ero là ad Alan e stavo farmando monete per prendermi Moby Dick Però alla fine si è rotto il tablet E non sono riuscito a prendermi Bene, fortunato sono, sì, sì Io sono fortunatissimo Poi, proprio, cioè, il fatto di account Io tutti li perdo Questo qua è già il quarantesimo che mi faccio Vabbè, comunque È bellissimo lo chargira Comunque è molto, molto forte Mamma mia, sta saltando Tipo con una bestialità, è incredibile È troppo forte Perché è veramente una roba assurdissima La cosa ho visto, un pesce gemma Pesce gemma, vieni da me Ecco, mamma mia Cioè, i pesci gemma io li Cioè, tutto il tempo che sto guardando video Per avere pesci gemma Pesci gemma, per avere gemme, non pesci gemma E adesso che trovo pesci gemma così a casa Cioè, io li voglio tutti Perché No, no, è vero, non mi posso mangiare il kraken Eh, mamma mia Io sono abituato a mangiarmi dal kraken Perché tra il kraken E... come si chiama Tra il kraken e l'uminite Io uso l'oro E basta Però adesso userò molto, molto Tantissimo sciargiro Perché in due minuti Mi ho fatto già diegimila monete In due minuti Cosa veramente Difficile Potrei dire Non impossibile Però bisogna Avere tanta maestria La mole Non vedo che sta salendo tanto Però comunque Non ho fatto tutti quei punti Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ragazzi, ciao Ragazzi